Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avrete visto dal titolo questo non sarà uno dei miei classici video, ma è uno speciale. Direte voi perché perdi tempo a fare gli speciali anziché mostrarci nuove console o fare nuove guide? Perché questo sarà il mio ultimissimo video. Non ultimissimo in generale, fermi, boni, non me spaventate, magari a qualcuno fa anche piacere. Sarà il mio ultimissimo video che farò da qui dentro. Quello che voi avete visto diciamo soltanto come sfondo, come luogo per fare i video che metto poi qui online, in realtà è stata diciamo così la mia casa per diversi anni in un brutto periodo. Il mio bunker dei nerd si chiama, perché questa è una stanza che si trova all'interno del mio garage, che ho costruito nel tempo e di cui vorrei parlarmene prima di andarmene del tutto. Quindi ragazzi, questa volta niente console, niente recensioni, niente guide. Se volete vi faccio entrare un po' di più nel mio mondo per farvi capire cosa ha significato questo posto per me. Che cos'è un bunker dei nerd? Perché il bunker? In qualunque film dove c'è un nerd che si rispetti, troverete sempre una stanza dove tiene milioni di computer anche degli anni passati, con miliardi di codici che vanno a scorrimento che non si sa che fanno. Diciamo praticamente il suo laboratorio dove nerda forte. E come loro anche io il mio. Ma come è nato questo? Come avrete capito dalla cadenza, e ve l'ho detto anche diverse volte in passato, io sono marchigiano. E nel 2016 ci fu una forte scossa di terremoto nelle nostre zone. Non quella di Accumuli e Amatrice, che l'abbiamo sentita comunque, ma ce ne fu una qualche mese dopo, più precisamente a Castel Sant'Angelo sul Nera. Se non ne avete sentito parlare di questo terremoto, è perché non ha fatto troppo scalpore, perché non ha fatto morti. Ma c'è un motivo se non ha fatto morti. Perché il 26 ottobre alle 7.10 ci fu la prima scossa di 5.4 mi sembra, quindi una signora scossa per le nostre parti, che già ci aveva messo in allarme. Quindi eravamo già usciti tutti di casa, perché poi alle 9 di sera, neanche un'ora e mezza dopo, ci fu la scossa più forte da 5.9. E fu quella che fece la maggior parte dei danni. Fortunatamente le persone erano già uscite di casa. Per paura erano comunque rimaste fuori, o perlomeno erano più in allerta, e si sono, diciamo così, risparmiati grossi incidenti. Parlo a livello di persone, perché a livello di costruzioni ha fatto veramente tanti tanti danni. Ci sono molti piccoli centri, vedi per esempio Visso, che era un piccolo paesino all'interno dei Monti Sivillini, lo chiamavano la Perla dei Sivillini, che aveva una delle piazze più belle d'Italia, che adesso purtroppo il centro è completamente raso al suolo, e non so quanti anni ci vorranno per ricostruirlo. Non entro nell'ambito politico, ragazzi, perché ce n'è per tutti, destra, sinistra, centro, soprassotto, potrei sparare a raffica su tutti. Quindi la politica, via, fuori dalle balls. Quindi è iniziato tutto con questa scossa di terremoto. Quello che i giornali non vi dicono, quando c'è un terremoto del genere, vi parla, diciamo così, della scossa principale, e di qualche scossa di assestamento che poi c'è in seguito. Ma in realtà ci sono centinaia di scosse che mano a mano vanno scemando. Ma io mi ricordo che giocavo online con i miei amici e gli dicevo ragazzi scossa, ragazzi scossa, ragazzi scossa, perché praticamente le prime settimane se ne si susseguono tantissime durante il giorno. E il brutto del terremoto è che tu quando inizia una scossa non sai se sarà di assestamento oppure andrà a crescere. E tutto questo, tutta questa premessa porta a noi. Io stavo cercando casa in affitto, ottimo periodo per cercarla, però stavo ancora con i miei genitori e noi abitiamo al terzo quarto piano. Al terzo quarto piano, palazzo antisismico è quello che volete, il problema è che si balla veramente tanto, soprattutto se è l'ultimo piano del palazzo. Mia madre a terrore dei terremoti, allora sono andati con mio padre a casa di mia zia che aveva una casa singola su un piano, quindi stavano tranquillissimi. Mia sorella è andata a vivere dal ragazzo più o meno stessa situazione, ero rimasto io che dovevo tenere questi tre mammocci e lasciarli da soli a casa con queste scosse così sempre un po' impaurito, non mi faceva sentire proprio sicuro. Allora ho detto ok, a casa ci rimango io. Quindi cosa ho fatto? Io ho il garage direttamente collegato con i piani di sopra tramite le scale dedicate, ho preso un vecchio letto che tenevamo in cantina, l'ho rimesso in piedi e l'ho messo giù in garage. Ho detto ok, magari vivo su casa però la notte dormo laggiù perché se ci stanno queste scosse almeno sono pronto ad uscire, comunque sia non devo farmi quattro piani. Poi visto il continuare di queste scosse allora ho deciso di portarci anche lo stretto indispensabile di sotto, ovvero un televisore e la Play 4 ai tempi. E cominciai piano piano a vivere qua sotto. Solo che ok che a ottobre ancora si stava abbastanza bene a livello di temperatura, però con l'arrivo dell'autunno iniziava a fare freddo, quindi iniziava ad essere necessaria qualche piccola modifica nel garage per potermi ospitare, visto che la situazione non è che andasse proprio a migliorare in maniera così veloce. Il mio garage come tanti è lineare diciamo così, ha l'entrata da questo lato dove la prima parte è tutta garage e poi alla fine c'è una porticina per entrare direttamente nella cantina. Il piano era semplice, visto che l'aria veniva dalla serranda, perché comunque non è che è chiusa come un portone normale, ho deciso di tirare un muro nella parte vicina alla cantina che andasse da una parete fino alla prima colonna e poi nello spazio rimanente tra colonna e altro muro creare una porta scorrevole per fare in modo che l'aria si bloccasse del tutto e quindi ottenere una stanzetta tra cantina e garage. Detta così, 5 minuti e via. Il problema è che quando fai fare un muro fosse anche di cartongesso ad un programmatore che ha le manine di fata perché non se le è mai sporcate, capite che non è stato proprio rose e fiori la cosa. Però zitto zitto sono riuscito a mettere su un'armaturina di legno, ho attaccato il cartongesso e ho fatto la mia parete. La porta è stata un pochino più complicata perché ovviamente non ce n'erano di misure standard perché io ho semplicemente preso la distanza tra una colonna e un muro quindi non c'era una misura standard per la porta. E quindi me la sono fatta per cavoli miei. Ho preso il legno, ho fatto una porta, c'è proprio un kit apposta per fare lo scorrimento sopra, l'ho montato e sembra funzionare. Tiene ancora dopo 5 anni quindi posso dire che funziona. Ha scricchiolato un po' i primi tempi. E poi ovviamente visto che avevo i tre mammoci non volevo stare sempre a fare apri-chiudi, ci ho messo anche la gattaiola per farli entrare come volevano. Che poi è quel rumore di sottofondo che ogni tanto sentite, sentite quel tumf, quello lì è quando entra qualcuno o esce. E puntualmente lo fanno quando registro i video. Sennò non ci passano quasi mai. Una volta fatto muro e porta finalmente avevo la mia stanzetta chiusa, diciamo così. E da quel momento in poi qualunque altra operazione doveva essere approvata dai miei gatti, praticamente. La prima cosa ho voluto rivestire il pavimento perché avevo delle mattonelle classiche da garage. Allora ci ho messo il classico laminato che prendi all'Ikea e ci posi sopra. E ovviamente dieci minuti dopo è arrivata Ariel e... Ho fatto il pavimento, ho anche verniciato perché comunque sia le pareti erano bianche e tutte sozzate quindi ho messo un colore un pochino più scuro. Poi ho preso e ho portato il letto all'interno del bunker. E anche lì... Ho iniziato anche a prendere l'arredamento Ikea. Ho preso un mobile tv, ho preso una mini libreria, ho preso la scrivania, le varie mensole che vedete qui alle mie spalle. Ho preso il tavolino, ho preso la sedia. Anche lì Ariel appena l'ha vista. Convinto di aver finito già tutto, non ho fatto i conti con il freddo che stava arrivando, che era peggio di quello che pensassi. Perché il problema di questo bunker è che di sopra non c'è appartamento. C'è l'entrata di casa mia, quindi io sopra ho il pavimento e sopra ancora nulla. Ho semplicemente un androne del condominio. E quindi ho detto ok, visto che queste mattonelle fanno passare tutto, rivestiamo un pochino anche il tetto. Quindi ho preso il polistirolo, ho fatto l'armatura di legno e ho messo un minimo di strada isolante. Oltre alla dispersione del calore però, dovevo anche capire come scaldarlo. Non c'era possibilità di portarci i termosifoni, siamo a quattro piani di distanza. Quindi, prima soluzione, stufa a kerosene. All'Ariel piaceva. Il problema di quelle stufe è che fanno un caldo della miseria, per carità. Il problema è che per accendersi ogni volta tu le devi mettere fuori, perché le esalazioni che fanno all'inizio e l'odore sono molto fastidiose, se non che penso facciano proprio male. E non ci puoi assolutamente dormire, perché consumano aria. Ci sono andato avanti qualche mese, poi alla fine ho deciso, ok, questa è un po' troppo complicata, prendiamo la classica stufa elettrica da muro. Ariel è anche qui gradiva. Il problema di questa è che finché ci sono stato da solo io, sotto terremoto, ha funzionato benissimo. Quando hanno iniziato a tornare i miei a casa, e io ovviamente ancora stavo qui perché mi stava piacendo come stanzetta, appena loro attaccavano un fono, il forno non vi dico, qualche luce in più, se io tenevo questa saltava la corrente. E quindi questa soluzione pure non era ottimale. Alla fine ho preso un caminetto a bioetanolo, piccolo piccolo, fa molto meno di una stufa a cherosene, ma c'era una tattica, ovvero accendo per 10 minuti la stufa, lo dico di sopra, non accendere niente, faccio scaldare, spengo la stufa, accendo il caminetto che mi mantiene la temperatura. E così funzionava. Funzionava. Altro punto che dava problemi, per esempio, era la cantina, che siccome aveva quel lucernaio che era aperto verso l'esterno, mi faceva gli spifferi dalla porta, quindi ho dovuto fare una cornicetta attorno alla porta per evitare che questi spifferi passassero. Non vi dico mio padre quante me ne ha dette perché ci lascia la testa ogni volta che entra. Infatti adesso non si vede perché lo pulisco costantemente, ma probabilmente ci stanno anche i suoi capelli ancora attaccati su perché ci sbatte sempre. Ormai ce l'ha da 5 anni, continua da lì, boom. È una cosa incredibile. Ovviamente nel tempo, quando cominciavamo a tornare su casa, che il terremoto andava piano piano scemando, ho deciso di levare il letto che occupava un sacco di spazio e ci ho messo un divano letto che mi permette di giocare tranquillamente e all'evenienza mi si trasforma il letto. Non avevo calcolato che tre gatti divano letto non l'ho usato mai. C'è sta loro, è la loro cuccia. Infatti quando leverò tutto quello rimarrà perché non glielo levo se non mi accortellano. Passiamo alla ciccia. Arredato tutto, fatta tutta la stanzetta, cosa sono andato a mettere all'interno del bunker? La prima cosa in assoluto, ho dovuto portarci la rete. Come hai fatto a portarci la rete a quattro piani di distanza? La prima versione era un cavo che partiva dal router e veniva fin qua giù, ma ne servivano, non lo so, 30 metri, quindi... Ah, bocciata subito. Seconda versione, ho messo un ripetitore wireless a metà scale e un altro qui in modo che avesse il doppio segnale, ma continuava a non piacermi. Allora ho usato una soluzione che consiglio anche a voi, che è una powerline, ovvero si prendono questi due dispositivi. Uno si attacca con la rete direttamente al router in ingresso e poi lo attaccate alla corrente. L'altro non dovete fare altro che attaccarlo ad un'altra presa della corrente di casa. Una volta collegati alle prese, loro si rintracciano all'interno della rete di casa e fanno passare la rete dati tramite la rete della corrente. E è comodissima, non dovete cavolare nulla e la velocità è mantenuta, è quasi una via cava normale. Quindi cosa ho fatto? Ho messo il mio primo dispositivo attaccato al router e ho messo il secondo qua giù in garage. Si sono trovati, ho fatto uscire il cavo su ripetitore wireless e quindi io qua giù adesso ho sia la via cavo che la wireless per il cellulare. Risolto il problema di rete, il secondo problema è ci metto un televisore. Sono partito dal mio classico 32 pollici che avevo in camera, poi piano piano nel tempo ho comprato un bel 55 pollici, perché ho sfruttato il Black Friday e mi mancava il cavo dell'antenna. Lì non c'era modo di farlo passare tra la presa della corrente se non prendere il filo e portarlo giù. Visto che i miei non erano molto d'accordo con questa cosa, ho trovato una soluzione un po' alternativa. Cioè ho messo il televisore, ho preso il cavo, l'ho fatto passare per tutta la lunghezza del garage, poi appena è uscito fuori, io ho fatto fare quattro piani all'esterno e ho attaccato l'antenna sul terrazzo dei miei genitori. Questo ovviamente l'ho fatto mentre erano fuori. L'ho stretto talmente tanto che ormai penso che viene giù col terrazzo, quell'antenna non la leva più nessuno. Quindi anche il problema tv risolto. Oltre a questo sulla scrivania alle mie spalle, adesso la vedete vuota, ma in realtà ci stanno sempre i computer, ci faccio le prove, ci monto i raspberry eccetera. Poi ci ho messo ovviamente il mio cavinato, poi vi racconto cos'è stato il cavinato, per adesso sappiate solo che c'è il cavinato. E ci ho messo praticamente tutte le mie console, sono partito con la playstation 4, poi ci ho portato sull'xbox 360, c'è l'attacco per la nintendo switch, poi qui ci provo comunque sia anche tutte le console che recensisco. Nel tempo con tutte queste caratteristiche è diventato proprio il mio bunker dei nerd. Il cavinato ha una sua storia se ve la racconto perché io dovevo piangere però in realtà c'è da ridere. Allora, come avete visto il mio garage è fatto in questo modo e tra queste due colonne c'è una scala che mi permette di accedere alle scale per poi arrivare agli appartamenti. Questa è la zona dove mi sono messo a costruire il cavinato. Ho levato la macchina, ho levato un altro po' di cose e era la zona più spaziosa e più libera dove ho potuto creare tutte le forme di legno, dove ho fatto gli ingassi, insomma avete visto tutto già nel video. Il piano era semplice, creare il cavinato non più largo di 65 centimetri, non potevo scendere troppo perché comunque sia devi garantire un minimo di distanza tra player 1 e player 2, e metterlo all'interno del bunker facendolo passare per il corridoietto tra le due colonne. La teoria era solida. No. Quelli che sto per farvi vedere sono dei video inediti che non ho mai pubblicato di quando stavo costruendo il cavinato, quindi sappiate, parlavo molto più in dialetto di ora, passatemelo, però è quello che effettivamente è successo. Allora, principalmente come vedete, questa è l'altra parte del mio garage, là dentro ci ho fatto una stanzetta sotto il terremoto, poi ve lo spiego comunque sia, è la stanzetta dove andrà il cavinato. E io ho preso le misure di larghezza esattamente perché lui passasse tra questa colonna e questo muro. E fin qui tutto ok. Quello che non avevo calcolato sono queste, che uno dice che avrà la stessa dimensione della colonna, perché, se vedete, ci si passa. No, perché, guardate bene, queste maledette hanno una sporgenza. Quindi, facendo tutti i calcoli dovuti, il cavinato non ci passa. Dicate voi, che tocca fare? Niente. Cioè, soltanto da smontare le scale per far sì che le sposto un po' e faccio passare il cavinato dentro. Quindi la prima cosa, prendi e smonta le scale. Viti da 10 centimetri. La bestia così. Quelle da quando è stata fatta a casa, nel 90, non sono mai state svitate. Quindi, rendetevi conto quanto ci ho penato sopra. E spero mio padre non veda mai questo video, perché se no viene giù e mi spara. Perché non lo sa che ho spostato le scale, insomma, ammazza. E quindi, prendi e smonta le scale. Ok ragazzi, spazio recuperato. Come vedete, le scale sono spostate rispetto alla loro sede. C'è voluto un po', perché penso sia 20 anni, se non 25, che già stanno così. Quindi adesso ho lo spazio preciso preciso per far passare il cavinato. Creato lo spazio esattamente uguale alle colonne, c'è stato un altro problema. Cioè, prima della colonna, per far entrare il cavinato e poi farlo scorrere lungo il corridoietto, ho dovuto tirar giù anche la mensola, perché non avevo spazio per infilare il cavinato. Quindi, tira giù anche la mensola. Fatto anche quello, allineo il cavinato con il muro e comincio a spingere. Non ci entra. Immaginate la mia reazione. Levo il cavinato, rimisuro il cavinato. 65 centimetri. Preciso. Prendo il metro, mi metto sulla colonna, apro il metro, 67 centimetri. Non sono mai stato un genio di matematica, però sai, 67, 65, ci passa. Magari tocca, però ci passa. Purtroppo no. Perché il muro del garage non è regolare. Anziché andare dritto così, a un certo punto fa una curva verso l'esterno. E quindi, è vero che sulla colonna misura 67, ma 20 centimetri più avanti misura 63. Quindi il cavinato non ci passa. Immaginate me, dopo un mese di lavoro, che non riuscivo a mettere il cavinato all'interno del bunker. E avevo anche smontato le scale. Vabbè. Allora, cosa fare? Vado dai miei genitori e dico, se cortesemente me lo fanno mettere in camera, perché nel bunker non mi c'entra. Se gli chiedevo 20.000 euro per comprarmi una macchina a cuci sull'unghia, mi urlavano contro di meno. Una cosa che non vi dico. Ma è tutto scemo, ma come ci pensi? Quindi il loro ragionamento, o meglio quello di mio padre, è quello che mi fa capire da chi ho preso a ragionare in questo modo, è, scusa eh, prendi, buttici il muro che hai creato, e fai passare il cavinato da lì. Un genio. Un maledetto genio. Secondo lui era più facile buttare giù un muro che portarmi in spalla al cavinato fino in camera. Però chi è il padrone di casa? Non io. Infatti se voi l'avete notato, prima il muro era pieno, c'era una finestrella piccolina per far entrare un po' di luce e basta. Dopo ho dovuto prendere, buttare giù il muro e farci una porta muro, chiamiamola, fatta in maniera molto artigianale, che è semplicemente una porta che dal lato fuori si vede, tu la sganci, la tiri fuori e ha l'ingresso più largo rispetto a quello che c'è tra la porta scorrevole della colonna. Dall'interno ha la sua piccola armatura che, una volta verniciata la parete, sembra che sia incassettato e che abbia una finestra. Non vi dico una volta montato tutto come hanno recito i miei gatti. Sì, tipo, che è sta roba? Che ce faccio? Però alla fine gli è piaciuto, lo usavano come il lucernaio, se mettevano lì, guardavano fuori, i gatti gli gusta queste cose. E quindi, fatto il nuovo muro, finalmente ho aperto sta porta e ci ho fatto passare dentro il cabinato e avevo il mio nuovo ingresso. Questa è stata tutta l'odissea, di cui non vi ho parlato nell'altro video, perché sennò veniva da 90 minuti, di come ho inserito questo cacchio di cabinato qua dentro. Sentite? Gattaiola. Non lo fanno mai quando non registro, ci stanno solo quando ci sto io qua dentro. Bene ragazzi, vi ho detto come è nato, come l'ho costruito e cosa c'è dentro. Perché ci sono così affezionato? Perché piano piano è diventata una mia seconda camera. E la camera di un maschio, sapete che più o meno è la casa di un maschio, diciamo così. Soprattutto di un nerd. Perché ci ho giocato online con gli amici, qua sotto doveva, potevo urlare quando volevo, tanto non mi sentiva nessuno. Ci ho fatto le maratone con le serie tv, ci ho sviluppato, ci ho programmato, ci ho provato moltissime console, ho fatto molti esperimenti, ci ho portato qualche ragazza, ci ho dormito sotto terremoto. Dormito è un eufemismo perché in realtà era un letto singolo con tre gatti, quindi tu entravi così, tipo formazione da robottone, ti fermavi e dovevi stare così fino alle 7 di mattina perché c'era un gatto qua, un gatto qua, un gatto in mezzo alle gambe. Fisso. Ormai avevo imparato a dormire in quel modo. Avevo anche imparato a girarmi a pancia in sotto senza spostarli, quindi rendetevi conto. Ci ho passato bei momenti, brutti momenti, cioè negli anni è diventata la mia seconda casa, chiamiamola così, per quanto piccolino sia, ci mancherebbe, non è che c'ho il bagno, c'è il lavandino giusto perché era un garage. Però mi ha tenuto compagnia, mi ha fatto divertire e è diventata una piccola parte della mia vita. E adesso che me ne devo andare, perché come vi ho detto nel 2016 cercavo casa, poi il terremoto ha fatto un casino a livello di affitti, non vi dico, ho preso casa e quindi devo spostare tutto nel nuovo studio. Però non sarà mai come era questo bunker, perché quello è il classico studio che volendo abbiamo tutti, una stanza di casa adibita a queste cose. Per lo meno lo sto facendo passare come studio, se no non me lo lasciano perché diventerà la stanza dei giochi, lo sappiamo tutti, però ok, studio, però so già che non sarà mai come questo qui, perché questo bunker è nato da un'emergenza, da un'esigenza, non è nato per essere una stanza dei giochi, una stanza dei nerd o quello che volete, e tutta una serie di coincidenze, di casualità diciamo, l'hanno fatto diventare quello che è. È diventato anche il nostro luogo di ritrovo, voi lo vedete semplicemente come uno sfondo, ma vi ho raccontato cosa c'è tutto attorno. Spero anche di aver fatto entrare voi un po' di più in casa mia per farvi capire, oltre a quello che faccio, cosa c'è attorno al mio mondo. E adesso che lo devo smontare per portarlo a un'altra parte, sì, ti porti dietro i mobili, ti porti dietro le console e tutto, ma lascio questo posto e a me questa cosa pesa ragazzi. È veramente dura, guardate, non è che lo sto facendo per fare scena nel video, vi sto proprio trasmettendo i sentimenti in tempo reale. Ho già minacciato mio padre, gli ho detto, io te lo svuoto, ci metti quello che vuoi, tranne il divano letto che rimane ai gatti, ma non provare a smontarlo perché io vuoi o non vuoi, un giorno tornerò. Io quel giorno tornerò. Sappilo, e lo voglio trovare quel bunker, non provare a levare la porta al muro, guarda, vengo la notte e lo ricostruisco, eh. Cioè, faccio il contrario della tela di Penelope, tu me lo sfasci o te lo rimonto la notte, eh, sappilo. Bene ragazzi, è arrivato il momento di dire addio, o magari arrivederci, al nostro bunker dei nerd. Neanche Tony Stark penava così tanto prima di questo schiocco di dita. 3, 2, 1... Eccoci qua ragazzi, tutto smontato. Infatti non so se si sente, ma c'è molto più eco rispetto a prima. Mi mancherà un bel po' questo posto. Mi dispiace che l'avete conosciuto per poco, perché ho iniziato solo l'anno scorso a fare i video qua dentro, altrimenti ce lo saremmo goduti un po' anche insieme. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video con una veste tutta nuova, ma carichi come sempre, adesso me la faccio passare, abbiate pazienza, ma questo è un addio un po' pesante per me. E ci vediamo alla prossima, ciao ciao! Grazie a tutti!